La Regione faccia chiarezza sull'impiego del personale infermieristico nella guida delle automediche dell'Ulss 7. A chiederlo sommando la propria voce a quella di altri rappresentanti dei lavoratori è la CISL Funzione Pubblica di Vicenza che già si era espressa contrariamente a questa sperimentazione più di tre mesi fa. Il Sindacato ricorda come la legge regionale del 27 novembre 2012 preveda che l'equipaggio minimo delle automediche debba essere costituito da un autista e da un medico. Quindi fanno sapere dalla CISL salvo modifiche della legge stessa queste due figure ricoprono un ruolo fondamentale in questi automezzi. Le sigle sindacali non mettono in discussione ovviamente l'importanza e la qualità del lavoro svolto dagli infermieri semplicemente il loro ruolo non è quello di guidare le automediche come invece prevede la sperimentazione dell'azienda sanitaria. I rappresentanti dei lavoratori ammettono di forti dubbi sul fatto che questa sperimentazione sia in realtà come recita una nota ufficiale diffusa nelle scorse ore la copertura di un piano di risparmio o il preludio di nuove esternalizzazioni visto che alcuni viaggi non urgenti sono già stati appaltati a soggetti terzi. Ed ecco quindi le domande più importanti che la CISL pone su questo argomento. Prima di tutto come può una semplice delibera annullare quanto previsto da una legge regionale in vigore? E poi che valore dà l'ULS 7 ai propri dipendenti a coloro che sempre e da due anni in particolare lavorano con professionalità e dedizione rischiando ogni giorno la propria salute a causa covid anche quella dei propri familiari? Domande alle quali qualcuno deve dare una risposta.